Oggi è martedì 7 novembre e questa è la rassegna stampa di Fano TV. Occhio ai giornali come tutte le mattine dalle 7.30 in poi e anche nelle repliche che si susseguiranno fino alle 13.30 nel corso del palissesto della giornata. Allora buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori. Partiamo dal santo di oggi. Oggi festeggiamo, celebriamo i santi Giacinto, Castaneda e Vincenzo Liem. Il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 17.52. Il tempo questa mattina sarà per o meno nelle prime ore della giornata con rovescio temporane diffusi anche di forte intensità lungo la fascia costiera, centro-settentrionale e anche nelle zone interne del nord della Regione. Fenomeni che andranno ad esaurirsi nella prima parte della mattinata. Successivamente poi avremo sporadiche, deboli precipitazioni che saranno possibili invece nelle zone interne. In serata deboli rovesci sparsi nel settore di nuovo centro-settentrionale della Regione. Per domani, ancora nella prima parte della giornata, al mattino, avremo deboli rovesci sparsi lungo la fascia costiera e primo collinare centro-settentrionale. Le temperature sono ancora in diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Giovedì il tempo sarà ancora variabile con possibilità di deboli piovaschi sparsi nel corso della giornata. Le temperature sono ancora in lieve diminuzione, quelle notturne, stazionarie o in lieve aumento, quelle massime. Il tempo sarà variabile anche nei prossimi giorni. La città che registrerà intorno alle 2 del pomeriggio la temperatura più alta sarà la città di Fermo con 17 gradi. Andiamo a leggere adesso i giornali e partiamo dal Corriere Adriatico. Il giornale delle Marche. Pagare i debiti e tenersi la casa. Questa è l'edizione di Pesaro. Accordo contro i pignoramenti. Il Comune di Pesaro e i commercialisti danno la possibilità a quegli imprenditori che si trovano in difficoltà, che sono sommersi dai debiti, di rimodulare le insolvenze di famiglia e le piccole imprese. La chiamano legge salva suicidi, è stata varata 5 anni fa, scrive il Corriere Adriatico, ma è poco conosciuta. È una notizia che vale la pena approfondire e che potrete approfondire acquistando il giornale questa mattina in edicola. Doveva sistemare invece, doveva essere sistemata nel rimessaggio invernale questa imbarcazione che pubblica il giornale sulla prima pagina. Si tratta di una barca che è stata rubata la scorsa notte proprio sotto casa. L'appello adesso del barman Marco Remedi che dice aiutatemi a ritrovare questa barca perché ci tengo troppo. E la pagina di Fano invece del Corriere è sulle spycam, sulle telecamere, telecamere dislocate su tutta la città. Sono il nuovo incubo degli automobilisti, ma anche dei temerari del semaforo rosso. La Polizia Municipale di Fano la indica questa infrazione, cioè quella di passare con il semaforo rosso, come in vorticoso aumento insieme alle mancate revisioni. Alessandro Di Quirico, comandante dei Vigili Urbani di Fano, abbiamo dice rinunciato all'autovelox preferendo il telelaser. Strategiche le telecamere poste sull'impianto di Viale 1 maggio. E poi il maltempo di ieri, c'è stato un temporale anche qui a Fano, chiude il sottopasso del Lido, non è una novità, acquazione violento ma a breve rende impraticabile, anche Piazzale Amendola. Un incontro ieri mattina con gli studenti, gli studenti del liceo. Ragazzi dovete alzare l'asticella, sono parole di Giussi Versace. Testa a cuore pulito e mai l'ha resa. Giussi Versace, atleta che come sapete ha perso le gambe in un incidente stradale, ha ricevuto un premio, il premio Volpini, un premio prestigioso indetto dal giornale delle diocesi di Pesero Fano e Urbino, il nuovo amico. E ieri mattina ha ritirato questo premio di fronte a una platea di studenti che giustamente ha applaudito il suo coraggio. Tocca a voi combattere i muri degli adulti che gli adulti hanno costruito attorno all'handicap. E poi la notizia che potrete leggere solo sul Corriere Adriatico di questa mattina, su una furbetta, la furbetta così chiamata del parcheggio, che è stata sorpresa e sanzionata perché ha danneggiato un'auto e poi è fuggita. Però un passante ha annotato la sua targa e poi ha scritto un bigliettino. Il giornale tra l'altro pubblica proprio anche la fotografia, la troverete qua sotto, la fotografia di questo bigliettino sul parabrezza. E c'è tutti i particolari di questa cosa. Così come una notizia che troverete solo sul Corriere Adriatico di questa mattina, sulla pagina di Fano, riguarda un bel gesto, il gesto di un giovane, un giovane fanese che in via Flaminia ha trovato un borsello con dentro tanti soldi. Indovinate cosa ha fatto? Non se li ha tenuti per sé, l'ha restituito. Bravo. Poi la notizia invece che è pubblicata sulla pagina delle Marche del Corriere, è una notizia che arriva dalla Cina, dove una ragazza, una ragazza di 25 anni, è morta precipitando dal terzo piano di un albergo. Muore un interprete di 25 anni, Anna Tiberi, è volata da un'altezza di 10 metri. Per gli inquirenti si tratta di una fatalità. Fabriano in lutto, attende il rientro della Salma per l'ultimo saluto. E andiamo adesso sulla pagina di Urbino perché c'è un lutto che ha colpito l'Ateneo, morto, anche questa è una notizia che troverete solo sul Corriere Adriatico, l'Ateneo in lutto, morto Guidicini, fondò sociologia e innovò nel bio. Il professore è stroncato 83 anni da un malore, i suoi metodi di indagine sono ancora d'esempio. Lella Mazzoli, professoressa dell'Uniurb, dice ha fortemente amato la nostra città e questa università. Dalla Valle del Cesano, sul referendum, oggi l'ultima parola. Sulla consulta decide per Marotta Unita, in discussione la legittimità della legge regionale che ha sancito l'unificazione amministrativa. E poi l'appello per salvare Baby J, l'appello rivolto al Presidente degli Stati Uniti, Trump, continua infatti la mobilitazione per affidare questo piccolo bambino al papà. Domenica a Senigallia ci sarà una maratone di letture per non dimenticare l'intricata vicenda. È un caso particolare dove la mamma si è portato via, adesso sintetizzo, questo bambino adesso è in America e il papà che invece vive qui nelle Marche cerca in tutti i modi di riportarlo e ci sono anche dei risvolti un po' delicati che potrete leggere sul Corriere Adriatico di questa mattina. Cattolica e Gabice, questa è la nuova pagina del Corriere. Il Comune vara un piano da 5 milioni per il restyling di edifici e strade, nel pacchetto previsti anche 250 mila euro per completare l'urbanizzazione del VGS. Siamo sulla pagina di Cattolica. Poi da San Giovanni Marignano invece Stolking e violenza è stato condannato a tre anni. L'uomo, un uomo, aveva preso di mira un'impiegata della biblioteca di San Giovanni Marignano arrivando a minacciarla di morte e picchiando addirittura il suo compagno. A titolo di risarcimento dovrà pagare 30 mila euro alla ragazza, 7 mila euro anche al Comune di San Giovanni in Marignano. Apreva adesso invece il resto del Carlino. In prima pagina Banca delle Marche, una sentenza fa sperare anche gli azionisti, afferrare riconosciuto risarcimento per i soci del vecchio istituto. Intanto in 3 mila si costituiscono parte civile contro gli ex vertici. A centro pagina finanza all'Asur, dove sono finiti i soldi della medicina del lavoro, fiamme gialle negli uffici di Fano a caccia di risposte. Poi c'è l'albero di Natale che è già arrivato in piazza del Popolo a Pesaro, il Comune non attende, l'albero già arrivato in piazza. L'ex sindaco Baldarelli dice pagherò sulle spese pazze, pagherò tutto e poi tornerò a fare politica. Mi iscriverò nel Partito Democratico. La pagina di Fano, il semaforo ha fatto strage di multe, più 920%, è quello delle telecamere posizionate in Viale Primo Maggio. E poi sulla scelta del patrono a Terre Roveresche, in gara c'è questa lotta tra virgolette tra Santi, in gara Pasquale Giovanni Ubaldo, Terre Roveresche deve scegliere entro il 16 di dicembre. E poi la pagina di Urbino, aggrediscono l'educatrice e fuggono, tre ragazzine minorenni della villetta abbandonano la struttura, una è tornata, le altre sono ricercate dalla polizia su scala nazionale. Poi la pagina che troverete oggi sull'inserto pesarese, pian del bruscolo, Gabice e Gradara, sui camminamenti di Ronda è polemica, al momento 5 Stelle chiuderli è costato 20 mila euro. E poi la politica, i nodi della politica fanese sulla sanità, tra serie e ceriscioli, dice Forza Italia, c'è una trattativa senza senso, i consiglieri regionali fanesi non servono a nulla, dicono quelli di Forza Italia, mentre l'opposizione, la Ruggeri, per le parlamentarie non mi candido, dice la consigliera Grillina. Però se mi chiedete di fare il sindaco, di Fano sono onorata. Ok, è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito, vi invito come sempre a collaborare con la nostra redazione, inviando foto, video, testo al 338 49 68 250, questa sera c'è il telegiornale, ma vi ricordo che domani sera invece, dopo il Tg Occhina Notizia, in studio ci sarà primo cittadino con il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.